Dopo le manifestazioni e i cortei a Roma, come a Firenze, Torino e altre città d'Italia, sabato scorso, 8 luglio, è stata la volta di Pesero, con circa 50.000 persone scese in piazza. Per il ritrovo al Parco Miralfiori di Pesero si sono raccolti vari gruppi organizzati in OVAX, Comitato Salute e Diritti di Pesero, Rava HPV, Comilva, Vaccinari Informati, Il Sentiero di Nicola, Auret e Corvelva, grande determinazione da parte dei partecipanti che non hanno retrocesso di un solo passo rispetto alla richiesta di libertà sulla scelta vaccinale, nonostante nei giorni scorsi fosse arrivato l'ok del Senato per rivedere alcune posizioni contenute nel decreto legge del ministro Beatrice Lorenzin. L'Istituto Superiore della Sanità, infatti, ha introdotto novità approvando il nuovo emendamento portando l'obbligo vaccinale da 12 a 10 inoculazioni e stromettendo l'antime ginococco di tipo B e C tornato ad essere fra i vaccini consigliati. Inoltre ha abbassato il tetto della sanzione pecuniaria portandolo da 7.500 a 3.500 euro e stabilendo a 500 euro la soglia minima delle sanzioni in tal senso. Infine, viene rigettata la proposta di sollevare dalla patria potestà quei genitori inadempienti rispetto al calendario vaccinale obbligatorio. Ciò nonostante, moltissimi genitori con i loro bambini al seguito, sebbene le temperature fossero proibitive in questi giorni, non hanno esitato a riversarsi nell'area del parco come promesso. Nei giorni scorsi un laborioso tam-tam social attraverso Facebook, in particolare del gruppo Corvelva che conta oltre 8.600 iscritti nella sola regione Veneto, concentrava le forze su questo importante appuntamento organizzando una diretta in streaming per lo stesso pomeriggio e la proposta del tweet storm no vaccini obbligatori. I genitori hanno contestato al grido emozionante di libertà, libertà, il decreto del ministro della Salute Lorenzin sull'obbligo di vaccinare i bambini prima di iscriverli a scuola. Una misura, lo ricordiamo, ancora in discussione al Senato. Sul palco c'erano anche Povia che ha cantato Quando i bambini fanno O, rivisitando il testo per l'occasione. Chi comanda il mondo, una canzone che gli è costata 34 querele, ha ricordato. Il filosofo Diego Fusaro e il giornalista Gianluigi Paragone.